Con questo video tutorial noi andremo a vedere come si entra nell'ambiente riservato del sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca per presentare la domanda di partecipazione al concorso ordinario della scuola secondaria, per esempio, di primo e secondo grado. Ci sono due modalità, o se siete già registrati al sito delle istanze online, dunque se già fatto un riconoscimento in una segretaria scolastica, si può inserire username e password e fare poi entra, altrimenti bisogna cliccare sul tasto registrati, seguire i passaggi che vengono facilmente spiegati e poi andare in una scuola a farsi riconoscere. L'altro metodo per entrare nell'area riservata è quello per chi ha uno speed. Chi ha lo speed può, entrando con lo speed per esempio delle poste italiane, va a inserirsi nell'area riservata con facili passaggi. Basta avere scaricato sul proprio cellulare un'app delle poste italiane per poter immediatamente entrare a essere riconosciuti e dunque entrare nell'area riservata del Murecco. Nell'area riservata come primo form abbiamo i servizi in evidenza, tra cui c'è proprio la piattaforma dei concorsi e delle procedure selettive. Si entra in questa piattaforma e si arriva in quest'area dove c'è proprio la piattaforma concorsi e procedure selettive dove sono elencati una lista di stanze aperte, tra cui oltre la procedura straordinaria troviamo anche il concorso ordinario, il concorso ordinario per titoli d'esame. Ci sono qua, vedete, dei link proprio per di pago in rete per poter pagare la tassa di partecipazione al concorso. Si pagano 10 euro di tassa con questo sistema per ogni classe di concorso per cui si partecipa. Siccome si può partecipare per una sola classe di concorso la secondaria di secondo grado e per un'altra sola classe di concorso per la secondaria di primo grado, si devono pagare due pagamenti in rete distinti, che sono 10 euro l'uno. Se si vuole partecipare anche ai posti di sostegno, questa cifra viene raddoppiata, sono 40 euro in totale. Dopo di che, dopo che si è pagata, si può andare, vai alla domanda e si entra proprio nell'area della domanda, dove il prossimo video sarà fatto proprio per far vedere come si compila la domanda. Per cui seguiteci ancora nel nostro canale YouTube, nel nostro sito www.tecnica.scola.it perché prossimamente verrà fatto un altro video che vi farà vedere praticamente come si compileranno le quattro sezioni della domanda per la partecipazione al concorso ordinario. Un saluto a tutti i nostri lettori.